ciao ragazzi e benvenuti sul mio canale prima di iniziare questo video io vi ricordo iscrivetevi al canale e mettete un mi piace oggi il video sarà di magia perché la mia ragione ci mi piace nello scorso video abbiamo fatto il magia mi è piaciuto molto cosa ho pensato di portare per un altro e quindi farò vedere questo con il magia e poi il tutorial qui abbiamo quattro assi e qui un mazzo di carte adesso io vado e mischio un po' queste carte alla meridiana facciamo così adesso ho preso la prima carta che guarda l'ho messo un set di piccolo in caso non l'avete vista e quindi questa carta la devo mettere qui insieme agli assi poi andremo a rimischiare e a fare così uno due tre e quattro quattro carte a cavolo e faremo così e poi abbiamo le quattro carte così vedete solo 4 4 non ci staccano e bisogna girare e ci saranno più quattro assi due assi due assi due assi due assi e dove è la pasta di più e faccio qui io c'ho la vostra carta qui ora ci sono solo i quattro assi questa abbiamo quattro assi facciamo un'operazione qua facciamo quattro meno due e fatto così adesso basterà girare il palzo e fare uno e due e questa è la ora vi spiegherò come diciamo farlo questo trucco di vaccina se lo volete far vedere la vostra vizia a vostro compagno così questi serviranno quattro assi poi in realtà noi andremo a prendere solo tre di questi assi questi assi e a metterli qui e inizieremo col mazzo e un asso andrà qui sopra sopra il mazzo e quando inizieremo dovremmo dire qui saranno quattro assi mentre noi lo sapremo qui non ci sono quattro assi ma ce ne sono tre poi inizieremo a immischiare il mazzo come volete voi basta che non cambiate le ultime due carte iniziali mischiate lo volete e poi andrete a prendere due carte in realtà questa qui questa qui più questa qua però cercate di averla per esempio blu la carta quindi mischiate finché la carta non vi arriva blu almeno questa qui sarà blu e anche quella dietro così il trucco non ci cambia quindi dovrete prendere le prime due carte e dire questa qui sarà la carta che la dovrà mettere insieme ai quattro assi poi la riponcerete e prenderete la prima carta in realtà perché quella lì è la seconda e la mettete qui poi non vi resterà che prendere le prime quattro carte due due quattro e poi fare prenderete le prime due carte e metteremo al fondo poi prenderete la carta che avete fatto vedere e questa qui l'ultima che è una carta casuale andrete a far vedere che ci saranno solo quattro assi e potremmo fare questo operatore quattro meno due poi faremo potrete fino a fare uno e questa è la carta bene amici spero questo video quindi che sia piaciuto quindi vuole rischiare al canale e noi ci vediamo al prossimo video ciao